Grazie a tutti. Grazie a tutti. Di Obeia, il nostro format televisivo è online, ringrazio, siamo nella sala stampa, tra l'altro rifatta anche da poco, un po' come restyling, della regione Emilia Romagna, siamo insieme al presidente di questa regione, Stefano Bonaccini, che intanto ringrazio, ringrazio del tempo che ha deciso di dedicare un po' a noi. Senta presidente, gli argomenti sono tanti, io cercherò di toccarne il più possibile in questi minuti che abbiamo a disposizione, però il primo punto io vorrei dire alluvione, perché io non ho ancora capito, girando per i territori un po' colpiti in quel drammatico maggio, ci sono tante situazioni ancora di difficoltà, di sofferenza, di gente che ancora veramente non riesce a entrare in casa o non riesce a attraversare un fiume o quant'altro. Ma qual è la situazione reale? Allora, è ripartita la Romagna, sì, nel senso che per come sono fatti i romagnoli al pari degli emiliani, siamo gente abituata a rimboccarci le maniche e a lamentarci poco. Spalavano il fango cantando Romagna mia e magari qualche ora prima erano a disperarsi, a piangere le vittime e i tanti danni procurati a migliaia di abitazioni e di imprese. Il problema però è che le imprese, i cittadini e le famiglie colpiti hanno visto poco o niente e questo è incredibile dopo nove mesi, ma è ancora più incredibile che non solo sono stanziate poche risorse per i rimborsi dei danni, che peraltro Meloni e il governo ha promesso al 100%. Sì, si sono tenuti persino anche proprio la responsabilità della ricostruzione da un punto di vista operativo perché a mia memoria non ricordo quando mai sia stata affidata all'esercito la ricostruzione di un territorio dopo una calamità naturale, nel senso parlo delle norme, delle relazioni col territorio, ancora di più per un governo che dice che ci vuole l'autonomia, ha centralizzato tutto a Roma, lei sa che i sindaci anche di centrodestra di questa regione, dei comuni colpiti, speravano fosse il sottoscritto, il commissario della ricostruzione, non perché dovesse essere per forza Bonaccini, chi se ne frega. Però era un uomo del territorio. Ma è un uomo del territorio e sono ancora commissario della ricostruzione del terremoto che spesso è portato ad esempio, per come siamo stati in questa terra tutti insieme, nessuno escluso, capaci ad esempio di ricostruire praticamente tutto quasi dopo 12 miliardi di euro di danni con addirittura un PIL che in quella stiscia di terra è passato dall'1,9 addirittura al 2,4%. Quindi i 12 miliardi di euro di rimborsi, che come lei dice spettano allo Stato, che sono arrivati al 100% a chiunque ha dovuto ricostruire la casa, l'impresa o parliamo dei sindaci di centrodestra, di centrosinistra, la scuola, il teatro, l'impianto sportivo, il municipio eccetera, sono stati rimborsati tutti al 100%. Ma quei 12 miliardi di euro arrivati da diversi governi che si sono succeduti, torneranno con gli interessi nelle casse dello Stato, perché se il PIL aumenta, in termini di tasse da famiglie e da imprese, torneranno ripeto con gli interessi. Il terremoto lei dice... E il problema è che qui ci sono, va riconosciuto alla luce anche del miliardo e 2 nella firma che io ho apprezzato e applaudito tra Meloni e von der Leyen dei fondi europei da PNRR, però che però devono essere tutti realizzati entro la fine del 2026, anzi rendi contati. Quelli si aggiungono a 2 miliardi e mezzo e quindi diventano più di 3 miliardi e mezzo di euro per la ricostruzione nei prossimi tre anni delle opere pubbliche nel territorio. Mi spiego, ricostruzione degli fiumi, riparazione delle frane o come dire intervenire per arginare le migliaia di frane che ci sono state, ricostruzione o riparazione delle tante strade colpite, così come anche i luoghi pubblici come possono essere palestre, scuole, impianti culturali, eccetera, eccetera. Il problema è che c'è molto poco, molto poco, nemmeno la metà, di quanto servirebbe a rimborsare le famiglie, i cittadini e le imprese con due problemi. Uno... Ma questi soldi arriveranno, Presidente, o no? Questo è quello che ha promesso il governo. Quindi la promessa c'è, diciamo. La promessa c'è, ma a me delle promesse servono a poco, come quelle che faccio io. Sto sempre attento a far conseguire i fatti, perché di promesse è pieno il mondo. Di fatti concreti spesso vengono a mancare verso chi ha bisogno. Il governo ha fatto due errori. Il primo, ancora oggi, sembra una barzelletta quella che io le sto per dire, dopo nove mesi, posto che le risorse ancora non ci sono del tutto, ma ci fossero, il governo non ha ancora previsto che possano essere rimborsati i danni ai meni mobili. Quali sono? Gli arredi, il mobilio, banalmente, gli elettrodomestici, le cucine, le automobili, i motocicli, le scorte di magazzino. Solo che se lei ci pensa è il 90% di ciò che viene danneggiato o perduto per sempre a una famiglia, a un cittadino. E' clamoroso perché sarebbe stato come che se i governi di prima, di fronte al terremoto dell'Emilia, le due scosse il 20 e il 29 maggio del 2012, avessero reso inammissibile il rimborsi ai beni immobili, cioè i muri, le case, le aziende, le scuole, i palazzi. Perché? Perché in un terremoto ciò che è più danneggiato sono i beni immobili. Un'alluvione sono i beni immobili. Io sono sicuro che cambieranno idea, perché davvero ogni volta che lo racconto la gente mi guarda con gli occhi sballorditi e lo sanno bene i cittadini e gli imprenditori. A fronte di questo, l'altro errore... Ma perché secondo lei, stiamo su questo primo errore che lei dice del governo, perché secondo lei non hanno inserito questi beni? Non lo so, giuro che questo non me lo so spiegare. Mentre invece, credo abbiano più che sbagliato, sottovalutato, questa forse è la parola giusta, la necessità di norme rapide per andare a prevedere come far compilare i moduli alle persone per rimborsarli. Si è utilizzata la piattaforma Sfinge, che era quella utilizzata e inventata da noi per il terremoto, ma che andava adattata alle due ordinanze di figliuolo. Purtroppo si è dimostrato che non la piattaforma Sfinge, come qualcuno diceva, ma le stesse ordinanze andavano riadattate perché ad oggi non riescono mediamente a chiedere i rimborsi. Allora adesso, proprio di queste ore, la notizia, con me non l'hanno condivisa ma fa lo stesso, che apriranno degli sportelli in alcune località tra le più colpite per aiutare i cittadini e le imprese a compilare i moduli da rendicontare. Non l'hanno informato lei, Presidente, no? Diciamo che non sono stato propriamente coinvolto, ma mi interessa poco questo, perché mi interessa che risolviamo i problemi dei cittadini, non se vengo coinvolto io, non è questo il problema. E va di bene, stiamo parlando di una ricostruzione affidata comunque a un galantuomo, una persona che non solo considero amica, ma che stimo molto come il generale Figliuolo. Mi auguro che si risolvano i problemi che le ho elencato, di certo il governo sappia una cosa, noi volontà e spiriti di collaborazione sempre, perché chi guida un'istituzione non deve guardare al colore politico di chi l'ha eletto, che pur avviene, è la democrazia, ma negli anni in cui ci sta deve sapere che deve fare gli interessi anche di chi non lo voterà mai. Quindi da parte mia tutto il massimo di collaborazione alla Presidente Meloni, ai ministri, al governo e al commissario stesso, però noi non ci sposteremo di un millimetro, questo sia chiaro, fino a che, come è accaduto per il terremoto, i cittadini, le imprese e i comuni che hanno avuto danni, come gli è stato promesso dal governo, riceveranno il 100% dei rimborsi. Quindi lavoriamo per risolvere i problemi. Ora, allo stato attuale, una persona che ha avuto un danno, un frigorifero, una lavatrice, un armadio, un'automobile... Per ora quasi nessuno sta ricevendo rimborsi. Auguriamoci che questo ammenga. Le automobili cominceranno a arrivare rimborsi, perché la Regione ha deciso, a fronte di un no del governo, di renderli rimborsabili, di utilizzare buona parte degli oltre 50 milioni di euro di donazioni, ancora una volta il cuore grande di questo Paese, di questa Regione, ha fatto sì di raccogliere nelle settimane, subito dopo la tragedia, tante risorse, ben 47 milioni abbiamo deciso di mettere a disposizione per diverse cose, tra cui arrivare a dare un rimborso a chi ha perduto l'auto o la moto o ha dovuto ripararla dai danni che aveva, perché poi ci sono anche persone che senza quel mezzo e quel veicolo di locomozione non saprebbe mica come fare a spostarsi. E questi soldi delle donazioni sono rimasti invece nelle casse della Regione? Cioè il governo non ha chiesto dateli gli stessi? No, questi abbiamo deciso insieme all'Assemblea Legislativa, a tutti i partiti, dove e come destinarli. Da quando il 31 luglio, anche lì vede quanto tempo perso, Errani fu nominato commissario alla ricostruzione del terremoto una settimana dal governo Monti dopo il terremoto. Questo governo ci ha messo fino al 31 luglio, quando in gazzetta ufficiale il generale Figliuolo è stato nominato commissario e lei capisce che è passato metà maggio, tutto giugno, tutto luglio, due mesi e mezzo, ma fa niente, cosa fatta a capo A. Da quando è stato nominato il commissario Figliuolo ogni donazione deve passare dalla loro responsabilità e non da quella della Regione, nemmeno se quelle risorse vengono devolute alla Regione o ai Comuni, ma fa niente, tra di noi andiamo d'accordo e troviamo sempre il miglior modo per destinarli. Questo è utile ed è importante per tutti, però intanto che tante volte parlando con le persone che vedono ancora quella strada che è lì da maggio, quindi passandoli davanti uno deve guardare e dire il governo non sta agendo. No, lì c'è un tema che è legato al fatto che sono stati dati ai Comuni la responsabilità di fare le opere, la Regione ne ha una parte di sua potestà. Il problema che ha i Comuni in particolare, manca il personale a molti Comuni. Molti piccoli e medi Comuni di poche migliaia di abitanti si ritrovano a dover fare in alcuni casi decine e centinaia di cantieri in poco tempo, ma non hanno il personale tecnico e amministrativo a disposizione. L'altra sottovalutazione del governo è stata indicare delle procedure che attraverso lo scorrimento delle graduatorie permettano, prima nessuno, alla fine saranno più di 200, poco più di 200, non molti, ma meglio che niente, di personale, che però ad oggi non sta andando a lavorare nei Comuni, quindi bisogna trovare altre soluzioni. Il commissario Figliuolo ha ben visto il problema, ma bisogna accelerare perché noi siamo già all'inizio del nuovo anno e andiamo verso un anno di tragedia, quando saremo di qui a poco a maggio. Vede anche lì il punto che per fare quelle opere servono delle professionalità che se ti mancano nella struttura non sai veramente come fare ad andare avanti. Lei pensi che in questo momento a disposizione del commissario e della struttura commissoriale credo che abbia 60-70 persone che per la gran parte sono a Roma. Io da commissario della ricostruzione del terremoto negli anni più duri da ricostruire ho avuto circa 1.200 persone in più a disposizione con accordi firmati con Fintecna, con Invitaglia, attraverso assunzioni a tempo determinato della regione. Lei pensi che la struttura commissariale dell'Agenzia di ricostruzione delle milioni romani ha ancora oggi più di un centinaio di persone che ci lavorano per completare la ricostruzione? Quindi c'è una sottovalutazione secondo lei? Assolutamente. Ha anche poca conoscenza dei problemi del territorio. Senta, questo è un territorio molto particolare. Mi piaceva in questa puntata anche un po' raccontare adesso già è emerso in maniera molto importante però il presidente della regione. Cosa fa un presidente della regione? Perché lei ha fatto anche questa bellissima ne ha fatte tante, sono queste che sono le missioni dove si va all'estero, dove si portano imprenditori, professionisti essere stati in Giappone poco tempo fa c'è tutto questo lavoro di attenzione al territorio e anche di promozione di questo territorio. Beh, quella è una parte credo molto importante che credo abbiamo saputo... Perché se no tutti pensano che voi presidenti siete lì solamente per, come dire, fare attività più che altro politica... Si fanno tante cose, intanto stare molto... Cioè lavoro un presidente della regione, sì. Penso si veda. Poi magari uno giustamente può dire che sbaglio tutto quello è legittimo e si chiama democrazia però credo che mi vedano dal lunedì mattina alla domenica sera in giro per la regione, per i territori peraltro per sei anni durante questi mandati per sei anni ho fatto il presidente a conferenza delle regioni per sei anni contemporaneamente ho fatto il presidente... È vero che aveva d'accordo anche con Zaglia cioè alla fine lei è stato confermato anche quando c'è stato un cambio di... Per gli ultimi due anni avevo 14 su 20 presidenti di centro-destra. Questo è un segnale bello, importante. Sì, perché abbiamo sempre messo da parte le appartenenze chiaramente a volte avevamo idee diverse ma cercando di dare in sede di conferenza ai regioni nel rapporto con i governi ho avuto a che fare con 5 governi diversi in 5 anni e mezzo con colore politico diverso cercando di rappresentare le necessità delle regioni e nel fare questo devo dire devo ringraziarli, i miei colleghi ho trovato una grande disponibilità credo abbiano apprezzato il fatto che io non facessi veramente distingo su questo. Poi ho fatto per sei anni il presidente del Consiglio delle Città e Comuni d'Europa che mi ha permesso di avere rapporti in tutti i paesi europei anche oltre l'Unione Europea. Noi gestiamo per tre quarti del bilancio la sanità regionale che pur tra mille difficoltà lei vede che... Vuol dire quanti miliardi? Sono circa 9 miliardi oltre 9 miliardi sui 13 miliardi sulla sanità il socioassistenziale eccetera eccetera tenga conto che per quante difficoltà abbiamo a causa di definanziare la mia battaglia dico al governo serve che finanziate di più la sanità pubblica state tagliandola dove invece è giusto investire. Quindi il governo sta tagliando secondo lei? Eh sta definanziando. Ma chi dice che anche i governi precedenti con le vostre e la maggioranza diciamo di centrosidista ha tagliato è vero o no? Allora diciamola che in via tecnica nessun governo ha tagliato ma tutti hanno aumentato i fondi perché io ho avuto a che fare con sei governi diversi ogni governo che se ne andava aveva portato al massimo storico il Fondo Sanitario Nazionale per quantità di miliardi di euro. Ma il problema è che il rapporto lo devi fare col PIL reale del paese tant'è che è questo che diciamo e contestiamo. Il PIL del rapporto tra spesa pubblica e sanità del paese era al 6,8 è sceso al 6,5 scenderà al 6,1 con le manovre finanziarie nei prossimi due anni che il governo ha approvato se non le correggeranno diventiamo diventiamo uno dei paesi più fanalino di coda tra i 27 e l'Unione Europea e siccome io credo che sia soprattutto il sistema pubblico che deve garantire diritto alla cura delle persone perché in quel caso vogliamo che non sia il conto corrente bancario a decidere chi si deve curare e chi no deve essere un diritto universalistico per tutti che è un rischio che esiste è un rischio che esiste e soprattutto abbiamo un problema di personale ma detto questo lo stesso Ministero della Salute del governo Meloni pochi mesi fa ha fatto la classifica annuale della qualità e della quantità dei livelli essenziali di assistenza erogati dalle regioni al primo posto c'è l'Emilia-Romagna come Agenas l'Agenzia Nazionale della Sanità la settimana scorsa ha confermato l'Emilia-Romagna al primo posto però io sento che c'è un problema di personale e di risorse che rischiano di abbassare la qualità dei servizi ma detto questo poi torniamo lei citava il tema delle missioni internazionali su questo devo dire abbiamo giusto su due passaggi lei dice da governatore di questa regione mi sono passati sei governi sette un po' di stabilizzazione quindi ci vorrebbe io da questo punto di vista sono convinto che sarebbe giusto che un governo durasse tutti gli anni del mandato per cui viene eletto quindi da questo punto di vista io dico che da un punto di vista della percezione della qualità democratica è un bene che il governo Meloni prosegua se possibile fino alla fine del mandato non sono tra quelli che pensa serva una tramare per farlo cadere prima poi se non saprà stare lì siamo una repubblica parlamentare si passerà innanzitutto dal presidente della repubblica e del cosa possibile fare ci mancherebbe altro ma il fatto che ogni anno un governo cada come spesso è accaduto in questo paese agli occhi dei cittadini magari con governi che si succedono diversi da quelli che per composizione politica c'erano precedentemente dall'idea che a volte tant'è che il mio partito il PD è stato al governo dieci anni degli ultimi dodici con vari governi diversi io penso che l'abbiamo anche pagata perché so che l'abbiamo fatto per senso di responsabilità ma agli occhi dei cittadini siamo apparsi quelli che spesso volevano più difendere una poltrona piuttosto che rimettersi al mandato dei cittadini e io dico la prossima volta se dovesse cadere questo governo bisogna tornare alle urne non fare accordi parlamentari per sostituirlo al governo ma ha ragione lei la stabilità serve guardi cosa succede a una regione o a un comune una regione o un comune mediamente chi li guida dura cinque anni a meno che non intercorrano problemi o di salute o giudiziari o di crisi politica ma sono eccezioni che si contano sulle dita di una mano e io credo che a un cittadino piaccia che uno possa almeno per cinque anni governare anche perché risulta più facile avere un giudizio compiuto se quello che ho votato o non ho votato abbia fatto bene o abbia fatto male non può mai sapere se ha fatto bene o male esatto quindi io sono a favore della stabilità sulla sanità tono su questo passaggio nel senso che in genere il tema è un cittadino come si accorge che qualcosa non sta funzionando nella sanità quando si allungano le liste d'attesa gli dicono guardi venga tra tre mesi quattro mesi ma anche se uno gli dice guardi però se passa attraverso il privato l'assicurazione due anni mattina venga scendere l'orale ognuno ha diritto ognuno ha diritto di curarsi come crede noi abbiamo un rapporto con la sanità privata con la sanità privata accreditata eccellente abbiamo cliniche professionisti nel privato accreditato o nel privato privato di questa regione che sono bravissimi e che ci hanno anche aiutato durante la pandemia adesso ci aiuteranno a abbassare la lista attesa però io penso ed è questo a differenza della Lombardia che ha metà sanità privata la differenza di una regione come la mia Romagna dove l'80% dell'offerta sanitaria e io vorrei rimanesse così anche in futuro e si irrobustisse a carattere pubblico ora non perché ce l'ha col privato assolutamente no lei sa cosa penso per me le imprese hanno un valore sociale senza imprese non c'è lavoro non ce ne ha sufficienza però ritengo che i due diritti quello all'istruzione e quello alla salute in via prioritaria dovrebbe essere il pubblico o lo Stato a garantirli perché a mio parere un cittadino per l'idea che ho di società il diritto a istruirsi il diritto a curarsi dovrebbe averlo ed essere garantito a un povero esattamente come a un ricco dopodiché noi adesso abbiamo appena in giunta approvato un piano mettendoci risorse un po' di personale per andare a ridurre le liste d'attesa che si sono allungate anche in Emilia Romagna anche se lei conosce bene i numeri di questa terra noi ancora oggi siamo la prima regione che nel rapporto agli abitanti e tra chi esce a curarsi in altre regioni e i tantissimi che arrivano in altre regioni a curarsi qua siamo nettamente primi non è un primato di cui vado orgoglioso a differenza di tanti altri dice ma come non sei contento che vengano da tutta Italia a curarsi qui vuol dire che la sanità qui pubblica è eccellente certo che ne sono contento ed è merito dei professionisti che abbiamo o delle strutture sanitarie che abbiamo ma io vorrei vivere in un paese tra qualche anno in cui uno non è costretto a farsi mille chilometri o 500 chilometri o 300 chilometri per andare a curarsi mi piacerebbe un paese in cui in tutta Italia puoi curarti vicino a casa allo stesso modo per quanto riguarda le missioni internazionali invece di questo le faccio un punto d'orgoglio perché lei prende parte con imprenditori noi facciamo missioni con decine l'ultima in Giappone eravamo in 90 tra imprenditori docenti universitari professionisti dei centri di ricerca amministratori locali per presentare le media romagna per annacciare rapporti in Texas eravamo in 40 lo scorso a primavera siamo stati a Houston alla NASA ad Axion Space e abbiamo avuto l'orgoglio di collegarci con il colonnello Villadei ottavo astronauta nella storia d'Italia lui per la prima volta ad andare nello spazio proprio pochi giorni fa in una missione a cui l'Italia contribuisce e alla quale l'Emilia Romagna ha messo risorse con un accordo che ho fatto prima col ministro Guerini poi col ministro Cosetto Crosetto alla difesa all'aeronautica militare italiana Crosetto non le è venuto subito come nome no 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 guardi da questo punto di vista anzi è una persona con cui ho sempre sono sempre andato molto interamente onesto e era con noi il vice ministro che credo appartenga a Forza Italia Valentini quando siamo stati in Texas e pensi che a quella missione aerospaziale quattro imprese milioni di anni hanno contribuito Tecnogym realizzando la palestra a terra dove si allenavano gli astronauti e qui siamo proprio in America Barilla che ha dato ha fornito parte dell'alimentazione mentre era nella navicella spaziale verso lo spazio GVM Care in quel caso è il gruppo sanitario privato che ha lavorato per il controllo digitale da qui mentre sono nello spazio e dall'ara automobili che nel design nella meccatronica ha fornito grande soddisfazione grande soddisfazione così come siamo l'unica regione che ha un innovation hub da nove anni in California in Silicon Valley e mandiamo ogni anno le migliori start up giovani a farsi un'esperienza a nostre spese nel cuore dell'innovazione mondiale così come in Pennsylvania nel luglio del 2002 13 milioni di abitanti a Philadelphia ho firmato un accordo era la prima volta che accadeva nel dopoguerra tra una regione italiana e uno stato federale americano proprio un accordo istituzionale sul tema delle scienze della vita siamo stati a New York a Philadelphia a Boston in Massachusetts con 70 tra imprese professionisti della sanità cliniche centri di ricerca eccetera eccetera perché abbiamo ad esempio il terzo distretto del biovedicale nella bassa colpita al terremoto 11 anni fa più importante al mondo i primi due sono negli Stati Uniti oppure lei diceva il Giappone siamo stati a Kobe a vedere il secondo centro col secondo super computer per potenza di calcolo nel mondo il nostro è il quarto sono stato a Tokyo a incontrare il professor Marwala coordinatore dei 13 rettori delle 13 sedi dell'università delle Nazioni Unite la 14esima arriverà qui a Bologna anche questo un grande orgoglio insomma giriamo il mondo dalla Cina al Giappone dal Sudafrica al Canada agli Stati Uniti a tutta l'Europa all'Argentina perché crediamo che per la regione che esporta di più nel mondo grazie alle sue straordinarie imprese ai prodotti di eccellenza una regione che attira e attrae turisti a decine di migliaia da tutto il mondo abbiamo raggiunto i 62 milioni di presenze turistiche record per l'Emilia Romagna nel 2023 siamo appena stati con l'assessore Corsini prima a Vienna a incontrare le ferrovie austriache o bebè perché dopo il treno diretto da giugno a settembre Monaco di Baviera Rimini è stato sperimentato e quindi proseguiremo il Vienna Rimini Riccione Cattolica per arrivare in poche ore direttamente con un mezzo che non inquina in Romagna visto che i paesi di lingua tedesca sono quelli che danno tantissimi turisti storicamente a Romagna adesso siamo stati alla fiera del turismo a Monaco di Baviera sulla settimana parto tra pochi giorni per Berlino dove c'è una delle fiere internazionali del turismo più importanti al mondo quindi promuovere la regione anche perché sono fortunato da questo punto di vista diciamo ho incrociato dieci anni nei quali tra ricostruzione da un drammatico terremoto pandemia e alluvione so per certo che chi verrà dopo di me per secoli non avrà più queste sfortune però sono anche fortunato perché ho a che fare con una regione che quando giro il mondo e porto con me questo po' di eccellenze beh tutti capiscono che veniamo da una terra dove la qualità è davvero spesso assicurata senta bellissimo non voglio è splendido perché questo questo deve fare un presidente della regione quindi mettere insieme tutte queste realtà ha parlato di treni no abbiamo un sistema dell'alta velocità che va e troppa bene abbiamo un sistema invece regionale ferroviario che effettivamente insomma a volte no a volte insomma poi i pendolari si lamentano diciamo in realtà però abbiamo fatto tanto e trovo anche soddisfazione in tanti pendolari perché per due motivi io devo provocarla quindi cito la cosa no no ma lei ha ragione perché poi abbiamo un sistema di siccome le tratte ferroviarie sono in Italia relativamente poco rispetto al numero di treni che ci circola e quelle dell'alta velocità a volte sono andati a occupare ferrovie che venivano utilizzate anche peraltro in alcuni casi solo oppure quelli della linea storica come dire vedono accumularsi treni che ormai non ci stanno più in numero anche quando ce n'è bisogno rispetto ai tanti che circolano da qui i ritardi eccetera eccetera però devo dire due cose che ci vengono riconosciute la prima io sono diventato presidente dieci anni fa e avevamo un'età media delle carrozze dei vagoni ferroviari di vent'anni oggi ha meno di due anni è la flotta tra le più giovani sono la più giovane in Europa oltre 100 treni tutti con aria climatizzata nuovi con aria climatizzata posti per i disabili e posti per le biciclette quindi lei se prende un treno regionale mediamente ci sale sopra e sono nuovi e belli e funzionanti non è un caso infatti che mentre in altre regioni è diminuita il numero e la percentuale di cittadini o pendolari o turisti che salgono sui treni regionali da noi è enormemente cresciuta secondo 220.000 studenti e pendolari di questa regione hanno l'abbonamento gratuito per andare o tornare da scuola in particolare o anche diversi al lavoro lamentatevi poco no è un fatto importante dopodiché noi dobbiamo migliorare continuamente perché per chi va a lavorare e per chi va a studiare è bene che vi siano pochi ritardi che si possa salire su un mezzo competitivo col mezzo privato e perché noi diamo questi abbonamenti gratuiti che ad alcune persone fanno risparmiare centinaia di euro all'anno perché vogliamo premiare anche qui rinuncia al mezzo privato che inquina nella pianura padana che è tra le aree più inquinate del mondo e sale su mezzi che non inquinano quindi le garantisco che facciamo ma faremo tutto il possibile per alleviare i disagi senti allora tante sarebbero ancora le domande però le faccio l'ultima perché i minuti ormai si sono ahimè esauriti però il futuro cosa farà da grande Stefano Bonaccini dicono io poi non sono così addentro che questo terzo mandato per le regioni non sia poi così semplice da ottenere però siamo abituati a cambi repentini per cui effettivamente di minuti in minuti le cose possono cambiare in quest'ora ci possono essere delle decisioni però lei cosa fa perché qui molti dicono ma non ci può lasciare a metà questa regione Emilia Romagna vai in Europa ha chiesto a qualche consiglio a qualche deputato ma lei mi lascia il posto vieni in Europa poi arrivo io cioè non so se è fantapolitica o effettivamente si ragiona così intanto io chi mi conosce sa non ho mai chiesto né mai chiederò qualcosa per me anzi se io smettessi alla fine di questo doppio mandato mi chiedessero di non fare più politica eccetera posto che dovrebbe esserci anche una mia valutazione ma penso che potrei dire solo grazie perché io ho fatto esperienze faticose ci mancherebbe anche a fronte di quello che abbiamo passato ma bellissime che sono anche da un punto di vista umano straordinarie per chi ha passione civile la voglio dire così poter servire la propria regione mi credo le proprie comunità è qualcosa di importante saranno i cittadini a valutare se io sia stato capace o meno ma certamente credo nessuno possa mettere in discussione la passione e la volontà che ho provato a metterci dopodiché se il partito democratico che è il partito a cui sono iscritto riterrà che io sia ancora utile vedremo quale può essere la soluzione migliore terzo mandato dipende dal parlamento e dal governo mettiamo che il governo e il parlamento lo concedessero non è detto che sia io il candidato del PD e del centro-sinistra per la terza volta alla guida dell'Emilia Romagna credo che potrei essere un candidato possibile a fronte anche lei si ricandiderebbe volentieri io ho sempre detto che metterei a disposizione mi venisse chiesto certamente darei la mia disponibilità se questo non sarà possibile non so se mi chiederanno di candidarmi in Europa lo si vedrà tra qualche settimana e a quel punto andrebbe fatta una valutazione tenga conto che nel caso dovessi candidarmi alle elezioni europee magari venisse eletto tenga conto che comunque si vota a giugno passa una settimana perché uno debba dimettersi si tenga sempre conto che noi votammo nel gennaio del 2020 e in ogni caso io la prima volta veni eletto nel novembre del 2014 quindi comunque a novembre di quest'anno sarebbero in ogni caso dieci anni ma davvero le dico la verità quindi sta preparando le divisioni non ci ho ancora minimamente pensato perché davvero sto pensando solo all'Emilia Romagna e d'altra parte credo che lo veda anche lei mi vede ovunque e soprattutto perché credo che dobbiamo sempre avere la testa sui problemi e mai accontentarci per cui fare questo questo tra virgolette questo assumere questo incarico è stato un onore e spero soprattutto di aver fatto il meglio possibile agli occhi degli Emiliano Romagnoli quello che succederà in futuro vedremo in ogni caso le dico che nessuno di noi è indispensabile e che poco importante cosa farà Bonaccini vedrà che qualche soluzione la si troverà va bene grazie grazie al Presidente della Regione Stefano Bonaccini noi adesso ci trasferiamo esternamente con il nostro Sergio Finelli nella nostra guida turistica che ci racconta un po' questo logo bellissimo delle torri della Regione c'è tanta storia per cui la raccontiamo Kenzo Tang architetto giapponese infatti qui dopo avremo qualcosa da lui però grazie davvero del tempo che ci ha dedicato ringrazio ovviamente anche voi prima di cedere la linea a Sergio grazie alla regia e alle ripese che vede conto grazie ovviamente a tutto lo staff grazie al canale 14 di Teleromagna per la versione televisiva al portale tvbologna.it tvbologna per vedere questo appuntamento e allora adesso cediamo la linea in esterna al nostro Sergio Finelli grazie ancora Presidente grazie Francesco allora siamo nel Fiera District per capire perché ci troviamo in questo luogo così particolare dobbiamo tornare a quei fantastici anni 50 e 60 di una Bologna veramente molto propositiva molto desiderosa di una collocazione di livello internazionale e quindi il momento in cui c'è la collaborazione fra il comune e la diocese quindi il cardinale Arcaro che sarà una figura di grande riferimento portano tutta una serie di costruzioni di infrastrutture notevolissime come per esempio la tangenziale il progetto nuove chiese che farà avere tante chiese anche nella periferia ed effettivamente anche il Fiera District primi anni 60 era già stato costruito il quartiere fieristico ma riusciamo a intercettare un guru dell'architettura come Kenzo Tanghe per affidandogli un progetto di rivisitazione della parte nord di Bologna possiamo dire l'idea di creare un nuovo centro quindi ormai ci si è resi conto che il centro di Bologna quello vecchio chiuso dalle mura medievali è troppo stretto Bologna ha bisogno di allargare i propri spazi e quindi viene dato questo progetto importante di rivisitazione della città della parte nord a Kenzo Tanghe in realtà tutto il progetto non sarà mai realizzato era un progetto visionario prevedeva tutta una serie di interventi non ne verranno fatti tutti ma quello che ci rimane la testimonianza sono queste torri che contraddistinguono sicuramente il panorama della città è diventato il centro direzionale di Bologna quindi un centro ancora molto vivo molto pulsante la costruzione inizia fino anni 70 primi anni 80 e l'idea è di riproporre il modello della torre anche il portico ma sicuramente la torre quindi le torri antiche sono ancora presenti nel centro storico mentre invece in questo luogo verranno create le nuove torri quindi il simbolo della nuova Bologna del ventesimo secolo e ancora adesso questo questo luogo sicuramente caratterizza la vitalità di una città come Bologna grazie a tutti apri la tua azienda in totale tranquillità avvalendoti della nostra assistenza contatta a confcommercio a scommabolo